Musica Aveva un paio di etti di cocaina in casa. Un uomo, dirigente napoletana, residente a Prato La Peligna, F.E. Le sue iniziali, è stato tratto in arresto nella serata di ieri dagli operatori del commissariato di pubblica sicurezza di Sulmona, coordinati da vicequestore aggiunto Antonio Scialdone per detenzione a fine dispaccio di sostanze stupefacenti, come abbiamo annunciato le prime luci dell'alba sul sito della nostra emittente televisiva. Il blitz antidroga è scattato intorno alle 21 nel quartiere di Valle Madonna dove il soggetto risiede. Il via vai di persone aveva cominciato a fare insospettire da tempo le forze dell'ordine che si sono attivate, una carta conosciuta, insomma, una sorta di bancomat della droga stando sempre al capo di imputazione. La polizia ha rinvenuto un incente quantitativo di sostanze stupefacenti a casa dell'uomo. Sembrerebbe proprio nel garage un paio di etti di cocaina più materiale per il confezionamento della sostanza per cui per il 54enne di origine napoletane sono scattate le manette ai polsi. L'arresto in flagranza di reato è stato eseguito dai poliziotti su disposizione del magistrato di turno presso il tribunale di Sulmona, Edoardo Mariotti. L'uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Nelle prossime ore saranno resi noti i dettagli dell'operazione. Continua lo scacco allo spaccio sul territorio a dimostrazione che il fenomeno è assai diffuso. Ulteriori accertamenti sono in corso per risalire la provenienza della sostanza e i potenziali acquirenti sul mercato. Martellate sull'auto dell'aggressore 68enne che la scorsa domenica Raiano prese abbastonato il ragazzino di Sulmona di 14 anni per essere stato importunato, con tantoli virgolette, dalle bussate alla porta della sua abitazione. Questa notte l'uomo è rinvenuto ai vetri della sua auto completamente distrutti, tant'è che si è precipitato in strada per controllare quanto era accaduto. I due episodi potrebbero avere un nesso ma non si esclude nemmeno un caso isolato. Se si tratta o meno di una vendetta, di una ritorsione, lo stabiliranno le forze dell'ordine che saranno chiamate a svolgere accertamenti sul caso. Sull'episodio della scorsa domenica il 68enne era stato deferito l'autorità giudiziaria per lesioni aggravate e porto abusivo d'arma atta ad offendere. Poi il nuovo episodio, questo atto vandalico a distanza di qualche giorno che fa pensare a un possibile ed inevitabile collegamento. Tra l'altro che sembrerebbe che l'auto presa di mira fosse stare acquistata da poco. Cari dalla moto per una buca e finisce su un albero. Tragedia sfiorata nel vero senso della parola per l'imprenditore sulmonese Pasquale di Toro che questa mattina se l'è vista brutta in via Santa Rufina subito dopo il viale della strazione. Prima una buca, poi avrebbe sfiorato anche un passante che stava facendo jogging e poi è finito contro un albero. Fortunatamente distriscio. Nessuna escorazione, solo qualche dolore. Per lui non si sono rese necessarie le cure mediche. Grande però la rabbia del centauro perché poteva andare peggio per le condizioni del manto stradale. Tutto a posto, naturalmente Assumona è l'unica città al mondo che non si trova l'asfalto. Non lo so, lo dovremmo comprare in nero da qualche parte dall'estero. Niente, sono arrivato, una macchina ha rallentato e come ho frenato ho preso questa buca in pieno. La moto mi è sbandata letteralmente perché 20 centimetri. Poi sei finito sull'albero. Il brecciolino, va tolto, va fatta la manutenzione e fortunatamente la mia abilità perché sono da sempre stato un centauro eccetera, ho preso la pianta ma ho preferito prenderla di striscio perché in pieno sarebbe stata una trambata. voglio specificare che non chiederò i danni a nessuno, sia ben chiara questa cosa, ma il comune si deve immediatamente muovere. Io lo compriamo noi l'asfalto perché io ho rischiato la vita mia e la vita di un passante che stava qui adesso. Vogliamo sperare che questo episodio serva per evitare le tragedie? Certo, certo, devono iniziare a muoversi. Non può essere che fanno le elezioni solo per il vantaggio di essere chiamati assessori, sindaci eccetera. Devono risolvere il problema, il problema di questa città che è fortemente nel degrado. Datevi una mossa! Una notte di fuoco che balzò alle cronache e tenne l'intero paese con il fiato sospeso, due auto furono completamente distrutte dalle fiamme, un'altra danneggiata, con il rogo che provocò evidenti danni anche alla tettoia e al portone d'ingresso di un'abitazione. A distanza di tre anni esatti, da quel 3 marzo 2019, l'incendio di Pacentro in Via Antera resta impunito per i tre giovani imputati finiti sotto processo. È arrivata ieri la sentenza di assoluzione da parte del giudice monocratico del Tribunale di Sulmona per insufficienza delle risultanze probatorie, ovvero per non aver commesso il fatto. Si tratta di TLG, GS ed MR. I tre difesi dagli avvocati, Alessandro Scelli e Federica Di Bartolomeo, erano accusati in concorso da loro di aver appiccato l'incendio. Ad arrivare a questa conclusione erano stati i carabinieri della stazione di Pacentro scavando nella vita privata delle vittime fonti confidenziali, come è stato ribadiro durante il processo, che hanno portato i militari, all'esito anche di altri accertamenti, a deferire i giovani. Il castello delle accuse non ha trovato alcun riscontro durante il processo, tanto per l'entità degli indizi raccolti quanto per la scarsa copertura di telecamere in quella zona, che non ha permesso agli organi inquirenti di esprimersi con certezza sulla responsabilità dei tre imputati. Ad essere stata data alle fiamme era stata un'auto di un giovane di Sulmona, un Bitsubishi pick-up la cui combustione appiccata nella parte anteriore ha coinvolto per induzione altre due auto, una Fiat 16 appena acquistata da un giovane del posto e andata completamente distrutta e una Fiat Punto che è stata interessata solo parzialmente dal rogo, danneggiati anche tettoi e portone d'ingresso di un'abitazione. Insomma tre auto bruciate, una sfilza di danni documentati. Il risultato? Nessun colpevole. E' originario di Castelvecchio Subequo il bimbo di quattro anni che è morto nel pomeriggio di ieri nel tragico incidente che si è verificato in un asilo del capologo di regione. Un bimbo dolcissimo, come ricordano alcuni genitori, che aveva i nonni nel piccolo centro della valle subequana anche il padre era di lì. Una notizia terribile, commenta il vice sindaco di Castelvecchio Subequo Pietro Salutari, ancora sconvolto, che esprime il cordoglio ai familiari. La tragedia che ha messo in ginocchio il cavologo di regione tocca indirettamente anche la vallata. Nel giro di pochi secondi il cuore di una comunità già segnata da profonde ferite torna a fermarsi in quello che doveva essere un pomeriggio come tanti nella scuola dell'infanzia Pile, primo maggio. E invece per una tragica fatalità sei bambini sono rimasti incastrati tra il motore dell'auto e la cancellata. Uno di loro, Tommaso, è morto subito dopo il tragitto verso l'ospedale. Due sono stati trasportati a Policlinico Gemelli di Roma. Una di loro di quattro anni in prognosi riservata. Anche l'altra bambina di quattro anni è stabile e respiro spontaneo sottoposta da accertamenti. Un altro piccolo è bambino Gesù mentre restanti all'ospedale San Salvatore. La vettura finita nell'aria giochi dell'asilo è di una mamma iscritta sul registro degli indagati che stava andando a prendere un bimbo nella stessa scuola dell'infanzia in cui è avvenuto l'incidente. All'interno dell'auto c'era un altro bimbo di nove anni lasciato momentaneamente solo. Tra l'ipotesi è che il conducente abbia dimenticato di inserire il freno a mano o che il bimbo possa aver tolto accidentalmente il freno. La vicenda ha scosso anche il mondo della politica. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino.